Manuflor contro Norella Pescheria sul campo del verde rame di Cagliari per la Champions Cup Elite Amatori entrambe a caccia nella massima serie del primo successo che farebbe fare un bel balzo in classifica partono meglio gli ospiti campioni in carica Baragatti su punizione la mira non è precisissima, lo stesso numero 21 si rifarà poco più tardi portando gli ospiti in vantaggio poi il rientrante Monni ci prova da piazzato Nuges in qualche modo dice di no ancora Nuges bravo sul tentativo da parte di Pugedo poi nel finale del primo tempo improvvisamente Raffaele Farris da due passi fa 1-1 con le immagini realizzate dalla nostra Melania andiamo a vedere quello che succede nel corso della ripresa e subito botta in risposta Manuflor in vantaggio con Matteo Melis e Riccardo Salis pareggia subito numero 7 della formazione bianco-blu che sarà il grande protagonista di questa serata non è la pescheria in avanti con Baragatti che prova il destro vincente Nuges non perfetto nella circostanza non è la pescheria nuovamente in vantaggio poi Salis resiste a due versari mancino Nuges ancora male pescheria a più 2 che sente profumo di 3 punti Taris riporta in parità da due passi i nero-verdi ma chiudere la parità definitivamente ci pensa ancora Riccardo Salis su assist di Marco Monni finisce così al verde rame non è la pescheria scalcia la crisi o quantomeno ci prova battendo il Manuflor 5-3 non è la pescheria non è la pescheria non è la pescheria non è la pescheria